Nei fatti di questa significa che non ci ha sofforito niente da tutti, è un individuo decisamente ordinario. Come ha detto il defecto che ha, questo si estende anche alla sua vita professionale, molto probabilmente lavora in un settore in cui non risalta, non lascia male in sito. La sua manchezza di visibilità ha fatto le assorzioni di patrini. Abbiamo certi mani di attività con le fronte ogni giorno.